Il fascino, le tradizioni e le bellezze del Salento da vivere 365 giorni all'anno, dai riti religiosi alla musica popolare, dall'arte al turismo. Nasce per questo Salento tutto l'anno, un comitato che riunisce le fondazioni che da anni organizzano i due eventi di maggior richiamo del Tacco d'Italia. Da una parte la Notte della Taranta, che ha portato la musica salentina in tutto il mondo, dall'altro la Focara di Novoli, il più grande Falò d'Europa, intorno al quale, in occasione dei riti legati a Sant'Antonio Abbate, si radunano a gennaio artisti di tutte le discipline provenienti da ogni angolo del mondo. L'accordo sarà firmato domenica 13 dicembre nel Teatro Comunale di Novoli. Seguirà una tavola rotonda con la partecipazione dei rappresentanti istituzionali di Regione Puglia, Provincia di Lecce, Gal, Valle della Cupa, Proloco di Novoli, Comitato Festa e Parrocchia Sant'Antonio Abbate. Con la firma del protocollo d'intesa da parte dei due presidenti, Massimo Manera per la Fondazione La Notte della Taranta e Gian Maria Greco per la Fondazione Focara, si avvia la collaborazione per la pianificazione congiunta di nuovi progetti turistico-culturali e il miglioramento del sistema offerta in una logica di integrazione pubblico-privati. Obiettivi? Avviare un percorso di collaborazione comune volto a promuovere progetti condivisi, in grado di dare valore al grande patrimonio culturale che lega la musica al paesaggio e agli antichi riti del Salento, sviluppare sinergie di filiera per supportare la nascita di prodotti culturali e turistici innovativi, coordinare le reciproche azioni al fine di rafforzare il rapporto tra il turismo e la cultura e avvicinare sempre di più i visitatori all'immenso patrimonio culturale del Salento. Primo atto del protocollo sarà la costituzione del Comitato di Coordinamento Salento Aperto tutto l'anno, avente funzioni tecnico-operative, composto da tre membri, di cui uno designato da ciascuna fondazione e uno dall'Università del Salento. Il Comitato, che si riunirà periodicamente, sarà incaricato di elaborare proposte progettuali e operative, nonché di esaminare le iniziative da intraprendere e constatare lo stato di attuazione di quelle già avviate.